Quando mi chiedono che lavoro faccio, rispondo che sono un cercatore di adrenalina. Scavo la terra affinché non la trovo. Mi invento curve, salti, discese e tornanti. Scolpesco la montagna per estrarmi i brividi. Perché un trail di mountain bike è una geometria di emozioni. Il resto lo fanno la forza di gravità. Questa splendida montagna e i suoi giacimenti di adrenalina. Buona discesa.